Uno sciame d'api sopra il corpo senza vita di Domenico Enrico Caputi. E' stata questa la scena drammatica che si sono ritrovati di fronte moglie e figlio intorno alle ore 13 di Pasquetta. Una tragedia che si è consumata nelle campagne di Pieve di Cagna vicino a Urbino, ai danni di un 66enne pensionato originario di Carpegna ma da tempo residente in quella zona. Caputi, apicoltore per passione, era uscito di casa la mattina per potare alcuni rami, diventati di impiccio per le arnie di api. Un'operazione che ha però portato l'uomo a cadere sopra l'arnia, ribaltandola di conseguenza. L'uomo è stato trovato ricoperto da centinaia di punture di ape ritrovate sul suo corpo da parte dei soccorritori, ma non c'è stato shock anaffilattico alla base del decesso come si sospettava inizialmente. Gli approfondimenti medici hanno infatti rilevato come l'uomo si è caduto sulle arnie per un malore dovuto a problemi cardiaci. Non vedendo rincasare l'uomo, i familiari si sono recati sul posto e hanno assistito alla terribile scena. Contattati i soccorsi, si sono recati sul posto anche i vigili del fuoco di Urbino. Pompieri che hanno indossato delle tute di protezione, ma nonostante questo, alcuni di loro sono stati punti ripetutamente e costretti a farsi medicare dai sanitari. Con qualche difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti comunque a liberare il corpo dell'uomo, trasferendolo poi all'obitorio di Urbino.